Io sono Massimiliano Bolelli, sono candidato consigliere comunale. In che tavolo sei? Io sono lo zoccolo duro, i commercianti, è un bel problema, sì. Dobbiamo assolutamente vincere perché i commercianti di Bologna sono stanchi, sono stanchi di questa moria generale di attività, siamo a livelli allucinanti, 850 attività nel primo trimestre di quest'anno perse, attività chiuse, aperte poco più di 100, quindi il bilancio è assolutamente negativo, quindi bisogna tornare a vivere questa Bologna che praticamente sta morendo. Tutte le promesse che ci hanno fatto in questi cinque anni, il PD veramente sono ridicoli, perché io da commerciante, io sono un commerciante, quindi posso assicurarvi che comunque è una tragedia. Io ho un bar in centro, in zona universitaria, quindi praticamente proprio la zona impegnativa e praticamente noi siamo sotto ordinanza dall'ordinanza di Virginio Merola, che è canaglia, un'ordinanza canaglia perché ti chiude l'attività a luna e non ti dà la possibilità di poter lavorare proprio nel momento di pieno lavoro, quindi questo è veramente bruttissimo. In più abbiamo un abusivismo a livelli allucinanti, siamo ormai invasi da gente che spaccia, da gente che vende birra, è una tragedia, bisogna cambiare, bisogna cambiare, avere il coraggio di cambiare, ce la dobbiamo mettere tutta e non ci dovete deludere. Votate Movimento 5 Stelle, mi raccomando.